che dici? ti piace? sì sì molto bello davvero ne sono contento anche se me lo immaginavo questo non ti servirà ordino senza menù ci penso io fidati ti piacerà e come fai a sapere cosa mi piace se non mi conosci nemmeno? diciamo che sono bravo a capire le persone e poi se ordini sempre quello che già sai che ti piace che senso ha non c'è niente di male se per una sera ti lasci andare a meno che non sei allergica a qualcosa chiaro no 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 va bene tutto bene e vieni spesso qui? margherita non te l'aveva detta no no in questo posto era di mio padre l'ho ereditato era un'azienda agricola e io l'ho fatto diventare questo ma no ma allora non vale giocavi in casa ok vorrò dire che domani ti porto a cena fuori va bene? dove? no tu devi rispondere o sì o no non mi sono guadagnato un po' di fiducia secondo me ti piacerà grazie grazie grazie